ma chi siete? tendance tv prego? tendance tv, le do il mio biglietto ah siete della tv? della storfa ah allora no tieni dove siete? ah dalla franza ma va su internet e va in tutto il mondo cosa ha di speciale questa moto? facciamo così a franza fratello cosa ha di speciale? facciamo così grazie